Non so se valutarlo come un cartello, comunque siamo arrivati a Zignago. Ci troviamo ancora a circa due chilometri da dove si trova la sede municipale, per dirvi. Quindi è tutta salita. Mi aspetta salita di là. Ho appena fatto la salita di qua e proseguiamo. Finché non muoio, vado avanti. Questo è il comune di Zignago, che si trova nella sua frazione Pieve. Zignago è un comune sparso, quindi ha diversi centri e qui, proprio vedete il comune, siamo nella frazione di Pieve. Si trova, diciamo, la parte più importante del comune, essendo sede principale del comune vero e proprio. Ci sono circa 400, tra i 400 e i 500 abitanti e ci troviamo un'altezza, non ve lo so dire con precisione, perché in teoria il comune Zignago, proprio il centro di Zignago, dovrebbe essere a 600 metri, qui secondo me siamo leggermente meno. Qui abbiamo la scuola primaria. Poi c'è questa specie di piazzetta dove si può mirare anche il panorama, adesso andiamo avanti a vedere il panorama. Paesino, ovviamente piccolissimo, 400 abitanti divisi in diversi nuclei, ovviamente qua c'è davvero poco. Però in compenso c'è davvero una bella vista, compreso la vista della Bigi, che devo dire che quello fa il più. E comunque ragazzi, anche il video di oggi finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.